Si parla di pane oggi a Pescara in questo convegno dell'Aurum, pane tra tradizione e modernità, ma il pane, il caso di dire, dintino, non passa mai di moda? Beh, ultimamente sta passando un po' di moda, questo è uno dei problemi per quale abbiamo dovuto fare anche questo convegno, perché il pane è considerato il re della tavola, ultimamente sta diventando il povero della tavola, e per questo motivo vogliamo cercare di risvegliare il pane che sta seguendo anche la modernità, cioè nel senso che i pani stanno cambiando, si sta andando verso i pani che hanno un contenuto di carboidrati più bassi, nel caso mio specifico stiamo facendo anche degli studi per quanto riguarda un pane glicemico, che quindi possa andare incontro alle esigenze di chi soffre di diabete, stiamo riscoprendo dei pani con un maggiore contenuto di fibra, però la realtà è che il consumo di pane negli ultimi anni è sceso del 55%. Ogni regione ha un pane particolare, il pane abruzzese, Dintino per esempio, da cosa si differenzia rispetto agli altri pani? Diciamo che il pane della tradizione abruzzese è un pane che doveva seguire le esigenze dei contadini, del greggio, della pelle, quindi è un pane di formati grandi, di formati grossi, dove c'era contenuto pane di lievito pasta di riporto, lievito madre, quindi dava la possibilità di rimanere, di reggere una settimana, dieci giorni, perché doveva essere portato dietro, veniva fatto una volta a settimana. Sono, diciamo, queste dimensioni, queste dimensioni, oggi giorno non si sposano più con l'esigenza di vita che abbiamo e con la vita frenetica, però la caratteristica nostra è proprio questo, è un pane, diciamo, di dimensione, un pane, il cosiddetto pane cafone. Nel caso invece specifico di Pescara era, ed è ancora, il cuscinetto, che è un prodotto particolare che si sposava molto con il pesce.